Collasso del mercato uguale opportunità generazionale Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale Siccome è pieno ovviamente di visi che lacrimano, che si disperano in giro sulla rete per quello che sta accadendo Mi piace portarvi qualcosa da Bastian Contrarian Quindi cerchiamo di vedere anche qual è il bicchiere mezzo pieno Sicuramente per alcuni sarà ovviamente un disastro Quindi il collasso totale di un mercato azionario cosa va a procurare? Da una parte sicuramente la distruzione di portafogli, di capitali Addirittura andare a rimandare magari quello che può essere un pensionamento Ma dall'altra per chi ha intelligenza, possibilità di sfruttare il momento Andare a individuare i giusti asset in cui investire, singole azioni, ETF, Fadeoi Può rappresentare veramente l'opportunità di andare a arricchire la sua vita Quindi è un'opportunità di un'intera generazione che si va a formare in quel momento Perché opportunità generazionale? Perché sono quelle cose che capitano magari ogni 10 anni, ogni 20 anni, ogni 30 anni E quindi un'intera generazione potrà profittarne Per questo è molto importante in periodi così neri Cercare nel limite le proprie possibilità di avere più cash a disposizione Di generarlo e sarebbe stato veramente molto buono Mettersene da parte il più possibile quando i mercati erano sui massimi In ogni caso da una parte ho tanti investimenti che mi stanno facendo soffrire Ma dall'altra ho tanto cash che pian pianino ho cominciato a investire in questo periodo Vi vado poi a mostrare tantissimi grafici per andare a completare questo discorso In cui vi faccio anche capire un po' perché da una parte bisogna stare molto attenti Ma dall'altra quindi io eviterei le entrate all in tutto quanto insieme Adesso domani mattina presto ma questo a prescindere sempre e comunque Ma come dall'altra è veramente sbagliatissimo avere l'ancoraggio del prezzo Cioè decidere solamente di entrare se non so l'S&P 500 quando toccherà il meno 50% io entrerò Perché è qualcosa che potrebbe non accadere mai o soltanto una volta ogni 20 anni, 30 anni, 40 anni E poi lì probabilmente non avremo il coraggio, l'opportunità di farlo Ma c'è tantissimo altro da andare a sottolineare e quindi vi condivido lo schermo del mio computer Con questo grafico andiamo a vedere quello che è l'andamento dalla fine degli anni 80 ad oggi Di tre indici molto rappresentativi Abbiamo il Russell 2000, quindi notiamo quelle che sono le aziende a bassa e media capitalizzazione Abbiamo il famoso S&P 500 e poi abbiamo qui i trust immobiliari rappresentati dalla linea viola In questo caso mi voglio andare a concentrare in particolar modo su questi Per farvi vedere che ad esempio chi mi conosce da più tempo rispetto a chi magari mi segue da poco qui sul canale Perché prima era solito parlarne molto di più Ma i miei studenti all'interno del master delle rendite sanno quanto io sia abbastanza accanito sui trust immobiliari Mi piacciono tantissimo Perché molti continuano a non capirlo Ma in realtà sono degli asset che funzionano tanto bene e che addirittura sovra performano nel lungo termine l'S&P 500 Infatti qua vediamo che è più performante E ogni crisi di un indice o di un comparto, in questo caso magari anche degli asset immobiliari Vediamo che a volte vi sono delle divergenze, molte volte comunque ci sono delle corrispondenze a livello di crisi E' sempre una grande occasione, un crollo per andare a fare delle aggiunte in portafoglio E' una strategia laddove ovviamente si vanno a scegliere un numero sufficiente di aziende qualitative Per avere una rappresentazione adeguata di un indice o di un mercato Quindi bisogna essere diversificati E' una strategia che ha funzionato al 100% delle volte Ovviamente dovete sapere, dovete essere ben informati, dovete avere una preparazione Non ci si avventura, mi raccomando, fate i vostri studi, ponete sempre la massima attenzione Non voglio che questo sia un invito esasperato all'investimento Stiamo parlando di sacri principi e sto portando quelle che sono delle mie motivazioni E vi farò, vi mostrerò anche perché preferisco andarmi a comprare A selezionare in maniera autonoma singoli titoli immobiliari anziché ETF immobiliari In questo comparto li trovo veramente poco efficienti e abbastanza semplici da battere D'altronde se uno si iper specializza su un numero limitato di aziende All'interno di uno specifico comparto ha molto senso Soprattutto se strumenti come ETF magari hanno dei limiti abbastanza notevoli Che ho anche raccontato all'interno del Master delle Rende dei miei studenti Che insomma sanno benissimo quanto io adori questi asset E' chiaro, non ho solo trust immobiliari Ma ci dedico una bella fetta dei miei investimenti E quindi si rivalutano nel tempo Viaggiano insieme all'inflazione Quando esplode vanno magari in difficoltà Quando aumentano i tassi di interesse nel breve termine vanno in difficoltà Ma nel lungo termine riescono, soprattutto quelli qualitativi Addirittura a sfruttare queste possibilità In quanto ci sono degli adeguamenti dei contratti a netto dell'inflazione In quanto i prezzi degli immobili Poi se l'inflazione è comunque galoppante negli anni Salgono, soprattutto è vero, negli Stati Uniti d'America E quello che vi voglio far capire Che questa strategia, ovvero comprare sui crolli Ha funzionato al 100% Ripeto, sempre se comunque noi ci concentriamo Su un indice, su un intero comparto Che andiamo a creare Magari comprandoci le nostre 15, 20, 25 aziende Quindi ci costruiamo il nostro ETF personalizzato Ora, andiamo avanti Voglio farvi vedere delle frasi molto interessanti L'esempio è questa di Warren Buffett Qui ci sono tutto quanto un elenco delle sue frasi Sono meravigliose E proprio in questo contesto In quanto tutti quanti noi ci andiamo ad accanire Su quello che può accadere nel breve termine Ed è secondo me, non dico erri avanti Bisogna anzi conoscerlo molto bene Perché bisogna comprendere in quale contesto ci troviamo Per sapere se dobbiamo tirare un po' di più remi in barca O se dobbiamo comunque prendere coraggio E fare degli acquisti Ma in ogni caso Quando noi andiamo a selezionare delle singole aziende Quello che voglio farvi capire È che le previsioni del breve periodo Soprattutto macroeconomiche Sono perfettamente inutili Qui infatti ci dicono Che le previsioni sull'azionario Di breve periodo Sono qualcosa che alla fine Devono fare la fortuna degli indovini Non servono assolutamente a nient'altro Infatti lui e Charlie Munger Continuano a credere Che le previsioni di breve termine Siano del veleno Che dovrebbe essere bloccato In qualunque luogo Proprio tenuto lontano dai bambini E anche dagli adulti Che si comportano sul mercato Come bambini Quindi Questo è sicuramente qualcosa Che dobbiamo tenere a mente Non hai bisogno di essere un genio Un'altra frase Per avere successo come investitore Qui fa un esempio Che tu non devi essere Uno scienziato missilistico Investire non è un gioco Dove vincono coloro che hanno Un 160 di quoziente intellettivo Che quindi riescono a battere I ragazzi che ne hanno un 130 Non è assolutamente così Non c'entra proprio nulla Una super preparazione Da scienziato Una super intelligenza Anzi È anche relativamente semplice Non facile Non facile Ma semplice E probabilmente quel non facile Non è tanto Quindi una questione tecnica Quanto di testa Psicologica Allora Vi voglio far vedere Un altro discorso Poi Io sto sposando Assolutamente la sua filosofia Ovvero Ho avuto la possibilità Di accumulare molto cash Porto avanti i miei piani di accumulo Come Insomma Sanno tutti quanti quelli Che mi seguono Tuttavia sono rimasto Con una porzione di cash Veramente molto importante Nel 2021 Che mi sto adesso Spendendo in parte Nel 2022 Non si tratta di andare All in Assolutamente Perché è un qualcosa Che va ad anticipare Troppo magari Delle condizioni drammatiche Di mercato Per quanto riguarda Il medio termine Ma È un grande errore Tutti quanti Coloro Che affermano Se o quando L'S&P 500 Raggiungerà Il meno 50% O ragionamenti simili Io comincerò A entrare nel mercato No Non lo farete Praticamente Quasi mai Per una questione Tecnica E psicologica La questione tecnica È che il meno 50% Ragazzi Se ne diventa Quanti ce ne sono stati Nella storia Pochi Pochissimi Esempio Se prendiamo qui Un arco Dall'89 Adesso fino al 2022 Può darsi che Quest'anno lo farà Non lo sappiamo Ma se prendiamo Praticamente 30 anni 40 anni Di storia Ha capitato una volta Può capitarne due Sì Ma noi Non dobbiamo ragionare Come degli immortali Abbiamo 250 anni Di vita a disposizione E possiamo permetterci Di aspettare Un meno 50% Sul mercato Allora È inutile Fare previsioni Di questo genere Perché nessuno le sa E dobbiamo prendere spunto Da Warren Buffett E per fortuna Ricordandomi i suoi insegnamenti Soprattutto leggendo Quest'articolo Capisco che sto facendo bene Ovvero In questo periodo In cui le aziende Cominciano ad essere Fortemente a sconto Comincio Cioè Mi sto costruendo Sempre più posizioni Distribuendomi Lentamente Senza rimanere bloccato Il mio cash Infatti Warren Buffett Recentemente Dopo anni e anni In cui è stato fermo Ha speso 51 miliardi Un terzo della sua liquidità Ed è quello che sto facendo Anch'io Quindi ho ancora Parecchia liquidità Ma già Ho una fetta Abbastanza Importante Nelle ultime settimane E continuo a metterla dentro Quindi non facciamo L'errore Di l'ancoraggio Del prezzo Quindi l'effetto Ancoraggio È qualcosa che avviene Molto più spesso Di quanto crediamo Praticamente Capita ogni volta Che siamo indecisi Se comprare qualcosa Oppure no Ma che cos'è In poche parole Avviene quando La mente si fissa Su un prezzo E usa quello Come riferimento Per valutare Gli altri prezzi Allora Se aspettiamo L'S&P 500 Non so 2700 punti E poi arriva A 2900 Che facciamo Apparentemente Abbiamo perso Una delle più grandi Occasioni Della nostra vita Perché ricordo Che non siamo Immortali Quindi bisogna Utilizzare il buon senso Qual è il buon senso Il buon senso È andare A comprare Degli asset Valutandoli Ad oggi Diciamo Quella Che è Il loro Potenziale Per il lungo Termine Quindi andare A comprendere Rispetto alle Quotazioni Odierne Dove potrebbero Arrivare Chi se ne importa Se continuano A scendere I prezzi Se vogliamo Tutelarci È chiaro Non andiamo A costruire La posizione Lentamente Perché tanto Se non entriamo A meno 50% Non entriamo Nemmeno A meno 70% O meno 80% L'importante È trovarci In un range In cui È essenzato Il nostro Investimento In cui Abbiamo Un margine di sicurezza In cui Può darsi Che sia Molto Verosimile Che in 10 anni Faremo Porteremo A casa Dei ritorni Molto Importanti Non possiamo Sapere Qual è Il bottom Nessuno Lo può Sapere Può darsi Che non Toccherà Mai Quella Fissazione Del nostro Prezzo Quindi Quello Che io Dico Sempre È Un equilibrio Un equilibrio Che io Continuo A non Vedere Ad esempio Io Settimanalmente Vado Sempre A Distribuire Il mio Cash Quindi Come se L'avessi Non so Diviso Mentalmente In 100 In 200 Quote Io Ogni settimana Una quota Magari La vado A mettere Su Quell'azione Da dividendo Su quel Trust Immobiliare Che ritengo Più opportuno In quel Momento E Continuo A costruirmi O più opportuni Soprattutto Quando C'è Un grande Crollo E Continuo A costruire Sempre Il mio Portafoglio Cercando Il miglior Vantaggio Del momento Perché Rimanere Fermi Con Un super Capitale Un giorno Se arriverà Lì Comprerò Quel giorno Non arriverà Mai Quando arriverà Avremo Talmente Ancora Difficoltà Emotive Perché Non siamo Abituati A comprare A fare Nulla Siamo Abituati All'immobilismo Che può darsi Anche Che non faremo Nulla Oppure Ci arriva Stiamo Per eseguire Il nostro Click E magari Quel giorno Vi ha Un rimbalzo Del più 5 6 7 Per E spesso E volentieri Ho sentito Dire Beh Ormai Il treno È perso Invece Non è vero È appena Iniziata La nuova Corsa Quindi Le persone Rimangono Bloccate Sempre Il massimo Equilibrio Mai dire Vado All in Se accade Quello Oppure Rimango Fermo Per l'eternità Almeno Questo Nel mio Parere Non rappresenta Un consiglio Finanziario È quello Che rappresenta La mia Esperienza Ma è quello Che ci insegna Neguro È quello Che sta Facendo Praticamente Warren Buffett Dunque Andiamoci VNQ Abbiamo tanti altri Anche accessibili A noi europei Sono concepiti Sono strutturati Secondo Questa Modalità Sono in realtà Poco performanti Secondo me Per differenti motivi Il primo motivo È che Sono Esposti Sempre Ragionando Unicamente Sulle ponderazioni Quindi Ponderazioni Costruite Sulle Market Cap Quindi Vanno A escludere Trust immobiliari A media A bassa Capalizzazione Che sono Spesso E volentieri Quelli In cui Ci si trovano Più Occasioni Ma Trust Che non sono Una scommessa Come le Small Cap Growth Un giorno Devono Crescere Allora Sono piccoline No Sono Aziende Che hanno Dei bilanci Ottimi Che In cui Funziona Tutto Quanto Alla Grande In cui Ci sono Dei Dividendi Magari Anche Importanti Ma Sono Ignorate O Si trovano Agli Ultimi Posti Di Questi Trust Immobiliari Quindi Si insiste Sempre Sui Giganti Che Invece Viaggiano A Delle Quotazioni Spesso E Volentieri Alte O Comunque Non A Sconto Tutto Quanto Questo Inoltre Cosa Va A Creare Anche Un Delle Distribuzioni Dividendo Veramente In risorio Rispetto A quelle Che Sono Potenzialità Quindi Riesco Secondo Me Ad Sono Le Ragioni Se Siete Interessati A Seguire Quelli Che Sono I Miei Acquisti Ricorrenti Che Non Rappresentano Mai Un Consiglio Finanziario Ma Vanno A Completare Quella Che È Siete Ogni Mese Ogni Settimana Le Varie Posizioni Che Vado A Prendere Spiegando Le Motive Analizzando Delle Aziende E Quindi Arricchendo Di Informazioni Cioè Faccio Vedere L'aspetto Teorico Come Metterlo In Pratica Poi Ognuno Ovviamente Ne Assume Le Proprië Informazioni E Prenderà Le Ovviamente Iscrivervi Poi In Mesi Di Luglio Agosto Le Iscrizioni Rimarranno Chiuse Sicuramente Al 100% Inoltre Vi Ricordo Che Vi Ha Tantissimo Altro Materiale Quindi Questi Ragionamenti Questi Corsi Vengono Fatti Anche Su Tanti Altri Asset Ad E Sulle Azioni Da Dividendo In Cioè Non Ho Un Classico Ragionamento In Cioè Non Mi Importa Che Dividendo Sia Eccezionalmente Alto Ma Sono Altre Le Metriche Vanno Prese In Considerazione Per La Valutazione Della Sicurezza Del Dividendo Anche Quindi Delle Metriche Che Sicuramente Non Vi Racconta Mai Nessuno E Casso Ricorsivo Di Premi Quindi Quello L'obiettivo Nessuno Può Assicurare Mai Niente Al Cento Per Cento Ma Comunque Ha Delle Altissime Probabilità Ogni Mese E Quindi Vedete Il Piano Di Accumulo Il Cercare Di Incrementare In Maniera Ricorrente Ci Mette In Una Posizione Di Vincere Sempre Vedete I Piani Di Accumulo Sugli Etf Una Cosa E Poi Semplice Da Fare Sugli Indici Mondiali E Così Via Beh Chi Li Porta Avanti In Questo Mento Dovrebbe Essere Contentissimo E Io Lo Sono A Dettura Se Ci Sarà Un Mercato Ribassista Abbastanza Prolungato In realtà Io Sarò Felicissimo Sotto Quel Profilo Magari Per Altri Investimenti No Ma Su Quello Veramente Tanto Contento In Quanto Vorrebbe Addirittura Anticipare Di Parecchio Il Termine Del Mio Piano Di Accumulo Dedicato Alla Costruzione Della Pensione Tanto Ragazzi Io Vi Consiglio Comunque Di Trovare Un Equilibrio Cioè Di Farvi Bene Calchi Una L'altra Messo Da Un Tesoretto Se Uno Comunque Ancora Tanti Anni Magari Riuscito A Più Ricco Poi Cosa Ce Ne Facciamo Dei Soldi Quindi Anche Gli stessi Vanno Vissuti Quando Uno È Relativamente Giovane Anche Lì Sempre Tanto Equilibrio Fra Incremento Il Capitale Ma Da Una Parte Me Lo Godo Anche Quindi Potrei Addirittura Sfruttare Quel Momento Per Andarlo A ridurre E Godermi Un po Più L'esistenza O In Asset Che Mi Danno Di Più Subito Per Avere Sempre Più Indipendenza Anziché Puntare Solo L'accumulo Della Pensione Una Vota Che Capisco Che Ho Il Mio Bel Gruzzolo Che Posso Far Correre Ancora Per Trent' Anni Più O Menomigamente Quanto Potrebbe Darmi Mi Va Bene Così Quindi Vi Invito Anche A Questi Ragionamenti Quindi L'opportunità Di Una Creazione Di Ricchezza Genero Nazionale Sicuramente Esiste Ovviamente Quando C'è qualcuno Che riesce a fare A questo Dall'altra C'è chi Magari È stato Anientato Distrutto E non Ha la Pazienza L'opportunità Le varie Modalità Oppure A monte Ha sbagliato Tantissimi Investimenti Per Resistere E comunque Andarsi A riprendere Vi ricordo Ancora Il master Delle Rendite Dove Condivido Tutto Quanto Quello Che Combino Sui Mercati E Vado Veramente A fondo Qui su YouTube E chiaro Rimango Sempre Comunque In superficie Su Quelli Che Sono I Ragionamenti Su Quelle Che Sono Tutte Quante Le Metriche Da Dover Utilizzare Nel Mondo Delle Opzioni Delle Azioni Delle Azioni Dividendo Dei Trasti Immobiliari Per Fare Degli Investimenti Il 30 Giugno Chiudo Il Percorso Formativo Trovate Sempre Il Link Sotto In Descrizione Io Vi auguro Il Meglio Nella Vita E Negli Investimenti Ciao Ragazzi